Quello che stiamo realizzando per l'acconciatura, per lo show di oggi di Isola è la preparazione di queste ragazze che devono ricordare Natalie Portman nel film Leone ma proprio quello che viveva Natalie Portman in quel momento quindi una storia ambientata negli anni 90 di questa ragazza in una situazione disagiata, tra virgolette quindi una situazione abbastanza forte la collezione, come avete visto, è una collezione molto strong ispirata agli anni 90 quello che stiamo realizzando in questo momento sui capelli è semplicemente raccogliere i capelli in modo da rimuovere completamente il volume per far sì che le parrucche, anche se ovviamente sono volutamente sintetiche volutamente un po' fake ma vogliamo comunque che abbiano una silhouette naturale quindi con dei volumi naturali allora li raccogliamo in questa maniera così sapete se comprate una parrucca a casa e volete metterla questa è la miglior tecnica per far sì che sia il più veritiera possibile ci sono 10 modelli maschi? sì, ci sono 10 modelli maschi ovviamente per i modelli c'è la stessa ispirazione sugli anni 90 quindi su questo stile molto da strada e di conseguenza abbiamo mantenuto l'individualità di loro in base al loro capello l'abbiamo mantenuto esattamente così com'è se uno è riccio l'abbiamo mantenuto riccio se uno è liscio l'abbiamo mantenuto liscio però dandogli ovviamente la forza di un ragazzo di strada come potrebbe pettinarsi un ragazzo di strada ai giorni d'oggi ma con una leggera ispirazione negli anni 90 quindi che prenda un po' di colore da quegli anni grazie mille ma figurati, grazie a voi grazie a voi